Ciao a tutti ragazzi e ben ritornati su Harry Potter Lego Allora, cosa dobbiamo fare? E ora è finito il tempo Allora Dove dobbiamo andare? Magari ho dimenticato qualcosa Però raga Voglio finire il gioco Cioè poi lo finirò da solo al 100% Allora E come si chiama? La bacchetta carota Oh sì, ci insegna a spaccare l'acciaio Ecco Ecco Ti pareva che c'è danno Ron Allora Quindi Tu Ok Ok Poi Poi Hermione può fare questo E cappello, luna, stelle e pozione Ok Ok Ci siamo Poi questo Questo lo apro E spacco questo Poi Ti libero io Ti libero io Tu stai fermo là Ok Ti libero Adesso libero quello Poi Ti libero Allora Potere Potere Ok Ok Ah Qua c'è il piccione Quindi Non lo rompe Ah Da lontano Ok Li ho liberati tutti Ok Ok Però questo lo posso rompere Ok Ok Quindi Ah ok Lei che c'ha il potere del gatto Vai Ta 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 Scendi No Un mattoncino Era Non era un qualche Vabbè Fa niente Allora Questo ancora Non lo posso rompere Dove è il fantasma Eccolo qua Di qui Devo andare In quella Cappannina La Ok Acqua Dell'uovo Ok Che sa Allora Allora Ahia E' alta Via Ok Ok Ahia Ahia Ok Ok è così ok dovrebbe essere qualche guarda un attimo eccolo qua il candeleone il candelabro fai Harry 1 2 poi mi serve il potere qui la puzione nooo merda aspetta devo finire l'effetto vai così allora tac tac boom sali tira sta leva si eh non sei stupido ah fanculo stessa allora cos'è allora dai coglioni perché non mi agganci allora gatto vai qua c'è questo allora quindi questo no va qua eh Harry Harry questo va qua stupido drago infame allora così così che ce l'abbiamo fatto ok dobbiamo scappare dal drago vabbè siamo pure atterrati oh atto hai luce capa ma siamo in del tempo di fare le cose dai ma no sei scemo non mi fa far nulla aspetta che c'è un cazzo di pezzo aiuto non so come ma si riparte bello completato ragazzi Harry nel film lo metti dentro l'acqua quindi penso che devi fare la stessa cosa allora andiamo avanti arriviamo ok tutto indietro ah stai zitto Marfoy di qui? si provo mi fa andare in bagno in pratica di qui devo andare allora una lumaca una lumaca vabbè vabbè non è servito niente solo un mattoncino mi ha dato ah vabbè comunque devo andare qua si sto arrivando sorella che stai spiegando cosa deve fare what what ok allora allora una valvola l'ho messa lei può spaccare le cose no allora allora vai costruisci ok ok c'è un'altra valvola qua c'è e siamo due una dovrebbe essere qua però non me la fa prendere quindi devo chiudere questo no questo e siamo a tre manca una che c'è sto tipo qua però prima di metterla dentro la valvola vado a vedere se trovo appunto altri segreti ok allora mettiamo qua molto interessante non c'è acqua ok allora questo lo posso aprire ok poi questo non lo posso perché non ho il libro puliamo il vetro puliamo il vetro non 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 mamma mia, che è incazzata o? mamma mia, sti cosi! su qua so, beccarmi un po' d'acqua, si buonanze e felice non me lo fa prendere, ok, me l'ha presa ok, cazzo di acqua è? ok ce l'abbiamo fatta è la prossima missione non so, scappa livello completato ragazzi io direi di salutarci qua e ci vediamo qui la prossima volta, ciao! ciao